Buongiorno, buona domenica 10 aprile, benvenuti al consueto quotidiano appuntamento con la rassegna stampa di Omnibus News, tra poco la lettura dei quotidiani oggi in edicola, naturalmente continua a campeggiare ed è inevitabile la guerra, la guerra in Ucraina, su tutte le prime pagine dei giornali. Siamo arrivati al 46esimo giorno dall'inizio dell'invasione russa all'Ucraina, emergono molti orrori, mano a mano che le truppe ucraine si rimpossessano delle zone liberate dall'armata russa e insomma dopo il dramma di Kramatorsk con il missile lanciato sulla folla che attendeva di fronte alla stazione con un rimpallo di responsabilità, ieri ne è emerso un altro a Makariv, sempre nell'area di Kiev, trovati altri 130 corpi di civili torturati, uccisi, insomma una situazione veramente drammatica con questi orrori che continuano a caratterizzare questa follia assoluta. Intanto la Russia cambia guida al proprio esercito, la Russia è in difficoltà sul piano bellico rispetto a quelle che erano probabilmente le previsioni del Kremlino prima dell'invasione. Dvornikov, un generale tristemente famoso per bombardamenti e le operazioni effettuate in Siria, sarà irresponsabile di questo conflitto. Intanto ieri c'è stata la visita sorpresa a Kiev di Boris Johnson, il primo ministro britannico ha garantito non soltanto appoggio morale ma appoggio anche concreto con 100 milioni di sterline gli armamenti che fornirà al governo di Volodomir Zelensky. Andiamo a leggere le prime pagine dei giornali, cominciamo dal Corriere della Sera. Bombe e torture sugli sfollati, Makariv trovati oltre 130 corpi, intanto la Cina accelera sul nucleare, Johnson da Zelensky, l'Unione Europea 9 miliardi per i profughi. Il Corriere della Sera propone questa foto a centropagina, che è quel che rimane del teatro di Mariupol, la città forse simbolo, la città martire di questa guerra, anche se poi vediamo come stiamo vedendo di giorno in giorno, di città flagellate dall'orrore della guerra, ce ne sono più di una. Il diritto alla verità è l'editoriale di Maurizio Ferrera che fa una riflessione, le guerre producono una nebbia che rende particolarmente difficile stabilire come siano andate le cose, non per questo dobbiamo rinunciare alla verità. Gli eventi in sé, come il recente massacro di Buccia, evaporano dalla realtà nel momento in cui accado, ma lasciano tracce accessibili e quindi la ricerca della verità su quello che è accaduto. A Buccia, Marikov, alla stazione di Kramatorsk, allora, primo piano, Joseph Borrell, chiedono armi, gliele daremo, il commissario dell'Unione Europea, il generale al comando, modello Siria, Mosca si affida a Dvornikov, poi tecnici di Chernobyl, radiazioni, soldati russi senza scampo. Questa è un'altra notizia angosciante perché i soldati russi hanno scavato, si dice addirittura, mani nude, trincene, la zona dell'ex centrale nucleare di Chernobyl, scatenando appunto la fuoriuscita di radiazioni e per molti di loro, insomma, la prospettiva di vita sarebbe limitata addirittura ad un solo anno. C'è un'altra notizia, anzi due, che prendiamo naturalmente da Corriere della Sera perché oggi si va al voto in Francia, il primo turno, gli scenari, la Francia alle urna e Le Pen sfida a Macron, il primo turno, il presidente Emmanuel Macron spera in un secondo mandato, punta al secondo mandato, ma dovrà vedersela con la leader dell'estrema destra Marine Le Pen, al momento le proiezioni danno i due contendenti distanziati di un solo punto a vantaggio dell'attuale presidente. Poi ieri è tornato a parlare dopo due anni in pubblico Silvio Berlusconi alla convention di Forza Italia, Berlusconi deluso da Putin, ufficialmente per la prima volta, nei suoi 40 minuti di intervento, ha preso le distanze dal suo ex amico deluso e insomma ha parlato Berlusconi esplicitamente di crimini di guerra. Caccia ai civili, questa foto è emblematica, una stanza da letto con un cadavere di una donna di 95 anni nella sua casa Ada Andrybka, soborgo di Makariv, Johnson vola Kiev e promette nuove armi a Zelensky, siete dei leoni. Makariv ha scoperto i 132 cadaveri di persone inermi, uccise casa per casa. L'Ucraina crea archivio online sui crimini di guerra russi. Putin affida le operazioni al generale Dvornik, il macellaio della Siria. Forse c'è lui dietro l'ordine di attaccare Kramatorsk, come diceva Dvornikov, il generale appunto che guidò la missione sanguinaria che fece tante tante vittime in Siria. Il fattore Le Pen allarma la Francia, oggi si vota un piccolo punto sulla carta della Francia, un minuscolo villaggio a ridosso dei Pirenei a mille metri di altitudine, piste discessano dietro casa, si può andare in mezz'ora di macchina e fare un tuffo in spiaggia. I boschi in autunno sono pieni di tartufi, non ci manca proprio niente. Qui si sta bene, spiega Raimogero, pensionata di 72 anni, un villaggio di riducibili, l'Eclat, è rimasto l'unico comune francese a non aver mai espresso un voto per l'estrema destra. L'estrema destra che, come detto, è particolarmente forte in Francia e va a insidiare la possibilità di un rinnovo del mandato ad Emmanuel Macron e andranno senz'altro entrambe al ballottaggio. Ci fermiamo qui, pubblicità e poi la seconda parte della nostra rassegna stampa. Buongiorno, seconda parte della nostra rassegna stampa e siamo sulla stampa di Torino. Andiamo a vedere l'eccidio di Makariv, sottoterra nel Donbass, a un passo dalle trincee, le reclute di Cernobil, quelle vite a perdere, un anno di vita, la loro prospettiva, il voto francese e il destino delle democrazie occidentali, nell'editoriale del direttore Massimo Giannini, poi Anna Zafesova, il commento, lo Zarin Affanno, licenzia i generali, la geopolitica, ONU e stati canaglia, le urla del silenzio di Domenico Quirico e poi ancora la politica, Berlusconi-Putin, c'è lo strappo, mi ha profondamente deluso per quanto riguarda l'economia, gas russo, lo stop più vicino, Draghi segue la pista algerina. Andiamo sul giornale, il ritorno ai Berlusconi, titola il quotidiano diretto da Augusto Minzolini, deluso da Putin, crimini di guerra, virgolettato, le parole appunto del Cavaliere, subito cessate il fuoco da mosca, noi alternativi alla sinistra e distinti dalla destra, le ali al governo, ma non cediamo sul fisco, il giornale che ha il suo interno propone il discorso integrale di Berlusconi, il baricentro del paese, il titolo dell'editoriale di appunto Augusto Minzolini, minaccia atomica anche da Pechino, standard reports, Russia già in default, selettivo, difficile che paghi i debiti, poi centinaia di cadaveri, stupri e torture, l'Ucraina pubblica l'orrore dei russi. Andiamo a vedere la prima pagina del messaggero, USA-Russia sfida sulle armi, mosca minaccia, rifornire Kiev, una provocazione e la Cina accelera sul nucleare, massacro a Macariff, ride in Donbass, i servizi all'interno ma solo, Putin vuole chiudere entro il 9 maggio, poi fuga da Chernobyl a cui soldati resta un anno di vita, garanzie sui prezzi, gas premio di Stato per le aziende che fanno stoccaggio. Il consueto appuntamento con Romano Prodi sulla prima pagina del messaggero, l'impatto della guerra sulla fame nel mondo, la crisi africana, questa è appunto la riflessione di Romano Prodi, naturalmente si parla anche di elezioni in Francia, al voto, Macron non le penne, astensione decisiva, il protagonista torna a Berlusconi e scarica Putin, è una delusione, questo scrive oggi il messaggero in prima pagina. Siamo sul fatto, Kiev compra il gas russo e Putin la paga per i tubi. Paradosso di guerra, Zelensky ci ordina di non fare ciò che fa anche lui, da Mosca riceve il metano tramite paesi vicini, 1,4 milioni di euro l'anno per il transito del gasdotto. La strage di Kramatosko nel Donbass, il missile è una vendetta per i bambini, impronte ambigue sul massacro dei civili e questa è una questione sulla quale si continuerà a dibattere. Silvio tre anni dopo invece scrive libero e il riapparso ne ha per tutti, da Putin a Super Mario, dalla casa al centrodestra, il ritorno in campo del Cavaliere, tam tam nel governo Draghi ed agosto molla. La ricetta di Berlusconi non è invecchiata, Europa, America e tasse, scrive Alessandro Sallusti nel suo editoriale. Poi l'assessore Cattaneo lancia l'allarme, senza il gas della Russia, la Lombardia va a rotoli. E a proposito della guerra, processare lo zar bello e facile a dirsi, impossibile a farsi, scrive Vittorio Feltri, poi dibattito su Zeleschi, irresponsabile o eroe dell'Occidente? Con il punto di domanda, presidente nel bunker, a firma di Antonio Socci e Francesco Specchia, così da libero. Andiamo a vedere anche la prima di avvenire. Cristiani uniti, basta guerra, l'appello delle chiese, mentre Mosca prepara l'offensiva in Donbass. Mattarella, il continente è a un bivio, Zeleschi siamo pronti a trattare. Intanto denunciati nuovi orrori a Macariff, 33 torturati e uccisi, il premio britannico a Kiev, il Cremlino cambia generali. Berlusconi deluso da Putin, va a difesa la libertà dell'Ucraina, così l'avvenire. Siamo al sole 24 ore, naturalmente per le notizie di economia gelata per l'industria. A marzo, allarme Confindustria, la produzione cala dell'1,5% nel primo trimestre, meno 2,9%, pesano energia e guerra, fiducia delle imprese in ribasso, a rischio la tenuta delle aziende. E per quanto riguarda la Russia, un altro passo verso il default sul terreno. Zeleschi pronti alla battaglia decisiva, Londra invia nuove armi e aiuti finanziari e poi in Francia testa a testa tra Macron e Le Pen, ma c'è l'incognita dell'astenzionismo. Andiamo a vedere la prima del domani, cosa rischia la Francia se all'Eliseo arriva Le Pen al posto di Macron. Questo è il titolo di apertura scelto dal domani. Nei sondaggi il Presidente e la leader di destra sono appaiati, anche se Marine vincesse, ed è improbabile. Si troverebbe insidiata a destra da Zemmur e sulla Russia sarebbe vincolata dai rapporti forti con la Polonia. E poi Emanuele Felice, le risposte che l'Europa deve dare alla guerra, l'embargo del petrolio. Andiamo a vedere anche la prima pagina del manifesto. La passione, questo è il titolo principale, dopo l'orrore di Bucia, quello di Makariv, la ritirata russa svela almeno 133 cadaveri per il sindaco della città. Ci sono segni di torture, stupri, sgozzamenti. L'esercito russo si prepara alla fondo nel Donbass con un nuovo comandante voluto da Putin. Ancora dal manifesto, si parla anche qui, naturalmente anche il manifesto si occupa delle presidenziali in Francia. Il primo turno in Francia è di nuovo pericolo, le penne, urne che apriranno fra poco intorno alle 8. All'interno del manifesto, il ritorno in campo, Berlusconi deluso da Putin, ma no, embargo sul gas, Mattarella Europa un bivio tra regressione e sopravvivenza. Giustizia, firmato l'accordo sul CSM, ma riparte subito la trattativa. Questo dal manifesto. Siamo sul tempo. Draghi prepara le valigie, scrive il quotidiano diretto da Davide Vecchi. Il Premier punta a chiudere la legge di bilancio in estate e andare al voto anticipato. Pronto a mediare con Biden per otterere nel 2023 il comando della Nato. Super Mario è rimasto vittima dei suoi slogan e sembra aver perso il tocco magico. Anche il tempo naturalmente si occupa del ritorno di Berlusconi. Torno per vincere. Il Cavaliere si riaffaccia sul palco, deluso da Putin, tocca a lui farsi indietro. E si parla anche di Covid, perché l'abbiamo tralasciato naturalmente da guerra, ha preso il palcoscenico assoluto. Il Covid rialza la testa, allarme, reinfezioni, colpiti non vaccinati, nuovo picco di casi. Ieri il Ministro della Salute Speranza ha invitato tutti a mantenere alta la guardia, insomma a proseguire con le misure di salvaguardia per difendersi appunto dal Covid che non è affatto scomparso. Siamo sulla verità. Draghi chiede gas agli amici di Putin. Paradossi e contraddizioni delle sanzioni. Per smarcarsi dalla dipendenza dallo ZAR, il Premier va in tour in Algeria, Congo, Angola e Mozambico. Poi busserà anche la porta di Nigeria e Qatar. Tutti paesi che all'ONU si sono rifiutati di votare contro il Cremlino, da cui l'Ucraina continua a comprare energia. Intanto turismo pasquale in crisi e siamo già in cyberguerra. Attacco al Ministero di Cingolani. Ancora per quanto riguarda la verità, profeti della paura in crisi, d'astinenza, variante in vista, resti noi divieti con la foto del professor Locatelli. Insomma sappiamo qual è la posizione, la linea editoriale della verità rispetto alla pandemia. Chiudiamo perché abbiamo prova una manciata di secondi con la Gazzetta dello Sport. Oggi è domenica, ieri si è giocato, l'Inter rifà paura, che prova di forza, 2-0 al Verona, Barella-Gecco in gol, Super Perisic, Inzaki in corsa. Ottimi segnali. E poi anche il risveglio di Vlaovic che ha dato la vittoria alla Juventus a Cagliari e che ha consolidato a Juventus il suo quarto posto. Con questo è tutto. Adesso tocca a Paolo Sottocorona informarci sulla Meteo. Ci rivediamo più tardi per la prima edizione del TG La Setta. Dopo a te Paolo. Sì, buongiorno. Le poche piogge, pochissime, debolissime piogge presenti, possibili, non sono neanche sicure. Nella giornata di oggi riguardano il medio versante adriatico, vedete fra Marche, Abruzzo, un poco sul Gargano e poi fra Campania e Calabria, ancora più deboli, ancora più improbabili. Sul resto del paese o è sereno o c'è qualche nuvola. Nella giornata di domani le piogge eventuali non ci sono neanche come minima possibilità o probabilità. C'è qualche nuvola. Quindi si passa da una fase di cielo quasi completamente sereno a qualche nuvola che nel corso della giornata si affaccia da ovest. Non è un vero e proprio peggioramento. Tant'è che nella giornata di martedì troviamo sì un cielo grigio un po' ovunque, ma come vedete la possibilità di qualche debolissima pioggia solo a ovest. Tempo stabile, ma quando è stabile sapete che poi magari c'è qualche foschia densa, un po' di grigio c'è. Le temperature di questa mattina scese perché siamo in una brusca fase calante e poi risaliranno abbastanza rapidamente. Però specie al nord e al centro i valori sono riscesi su valori abbastanza bassi. Bassi per la stagione ovviamente. Chiudiamo con lo stato dei mari che vede spostata quella zona con moto ondoso piuttosto forte dal nord dove invece il moto ondoso si è calmato all'Adriatico, al basso Tirreno che possono essere agitati per venti intorno nord-ovest. Quindi questo vento ancora c'è e intorno mari comunque molto mosse. Quindi il tempo come dire, migliora, si calma e anche il moto ondoso ma ci mette un po', è un po' duro a morire come si dice. Se volete ci vediamo intorno alle 7.55 e adesso pubblicità, poi la prima edizione del nostro telegiornale. A più tardi.